segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma a chi si riferisce secondo te che impressione ne hai tu allora secondo me ci sono più piani no in questa storia c'è un piano che è tutto personale e di una vita privata della nostra presidente del consiglio in un momento difficilissimo per qualunque persona veda naufragare appunto la sua relazione lei ce l'ho lo ha fatto in un modo che senza precedenti attraverso i social ha comunicato che la storia era finita a ventiquattro ore dall'uscita di quel video per la passa comunque è una cosa che resterà ed è una cosa che arriva anche alle donne in un paese maschilista come il nostro lei che non è sicuramente la regina delle femministe comunque ha lanciato un messaggio che ha un contenuto femminista quindi ha detto la nostra storia finisce qui e quindi è un modo molto dignitoso di chiudere un rapporto con un uomo che si è dimostrato non alla sua altezza poi c'è tutto un piano che è politico diciamo che ci giustamente tu è il piano umano personale con che merita tantissima solidarietà è comprensibile che ieri non sia andata a casa dei fratelli d'italia il suo partito quindi lei ha anche precisato qualcuno anche precisato perché era il posto dove comunque non avrebbe fatto danni al paese perché non era un impegno con il paese ma era un impegno con il suo partito potremmo dire in questo caso nella sua famiglia politica per usare una immagine certo quindi quindi fino a qui è tutto tutto molto comprensibile quello che a me colpisce invece del video e non ho capito perché l'abbia fatto è quest'aria molto rancorosa questa voglia di vendetta in un momento così doloroso com'è quello che sta vivendo con da madre anche di una bambina di sette anni però ha sentito il bisogno comunque di attaccare degli avversari di attaccare qualcuno che ha dimostrato tutta quella cattiveria quella meschinità usa delle parole molto forte ma chi è poi perché voglio dire Io credo che debba cercarselo a casa sua penso di sì io non lo posso sapere però sicuramente colpisce il bisogno di lanciare anche dei messaggi minacciosi della serie non finisce qui dimostreremo che e quindi questa voglia di avere comunque un nemico questa voglia comunque di vendetta e vediamo donzelli